E adesso noi ci spostiamo in regione dove è stato confermato l'ufficio di presidenza, ma la maggioranza è contata, solo 30 consiglieri su 60. Valerio Cattaneo, PDL, rieletto presidente del Consiglio regionale, ma la maggioranza di Cota perde pezzi importanti. In teoria non avrebbe più i voti garantiti per governare. Certo si andrà avanti lo stesso, ma con incertezze dietro l'angolo. Per Cattaneo, con PDL e Lega, si sono aggiunti come figura di garanzia i voti dell'opposizione PD, Udc e qualche altro. I cinque di progettazione non lo hanno votato, è così Michele Giovine, come hanno dichiarato. Con queste defezioni la maggioranza di Cota è così scesa a 30. Magari non sarà facile che si verifichi di nuovo. Lo stesso Giovine e Progettazione, che ha peraltro firmato il documento di impegni di Cota per i prossimi due anni e mezzo, dicono che d'ora in poi valuteranno se votare oppure no con la maggioranza. Positivo sul programma che abbiamo contribuito a costruire. Negativo, visto che non abbiamo la rappresentanza politica che avevamo chiesto e a cui avevamo titolo. Quindi ci comporteremo di volta in volta secondo la nostra coscienza. Progettazione, i furi usciti dal PDL, non ha ottenuto quello che chiedeva la presidenza del Consiglio regionale. L'opposizione critica duramente questa situazione della maggioranza. Non solo abbiamo reso manifesta la crisi del centro-destra, ma abbiamo anche ripristinato una dignità nei rapporti della politica. Oggi lo dicono i voti in Consiglio regionale. Quando non si hanno i voti si va a casa. Ma come la Lega, il PDL è convinto che la maggioranza c'è e supererà il momento difficile. Noi siamo convinti che la maggioranza, almeno di 31, ci sia. E sulle cose fondamentali sono sicuro che la maggioranza si ritroverà. Oggi è stato un episodio che credo che riusciremo sicuramente a superare. Il Presidente Cota non si nasconde le difficoltà e i rischi di instabilità, ma conta nell'accordo di tutti sul programma. Su questi punti programmatici, che sono quelli che a me interessano, c'è una convergenza. Perché i cinque consiglieri di progettazione hanno detto di sottoscrivere questi punti e anzi hanno dato il loro contributo per quanto riguarda la stesura. Quindi io realizzerò questi punti. E Cattaneo, soddisfatto per la rielezione, sarò Presidente di Garanzia. Ho cercato di essere sempre super parte e di interpretare un ruolo istituzionale, perché il ruolo del Presidente del Consiglio regionale è istituzionale e non è politico.